Ciao da Avsim! Torna alla vittoria il Manchester United dopo un periodo di profonda crisi e continua ad essere comunque in crisi di risultati soprattutto ma anche di prestazioni non sempre convincenti e questo sembra quasi aver spento la candelina dell'ingresso in società di Sir Ratcliffe con un miliardo e quattro di investimenti, il 25% delle azioni del Manchester United più altri investimenti insomma un parziale avvicendamento nella proprietà che dà inevitabilmente fiducia ai tifosi che sono veramente fessati come ha detto Neville il Manchester United sono anni che non è quello che dovrebbe essere, sono anni che viene gestito male, malissimo, la gestione tecnica di Tenag non convince, non ha mai convinto fino in fondo e molti hanno sottolineato come sia quasi impossibile che non sia ancora stato esonerato, che sia ancora lì o forse utilizzano delle categorie di ragionamento che non si applicano a Tenag che non si applicano a Manchester United e che si possono applicare solo in alcuni contesti come può essere quello italiano ma non a tutti perché c'è chi forse ha fatto peggio di Tenag e sta ancora lì ma non viene neanche messo in discussione a differenza di Tenag che comunque sta costruendo un Manchester United di tanti giovani bisogna anche considerare che, ma veramente, ma veramente ci sono giovani che giocano e che sono titolari e che fanno poi la parte fondamentale del gioco del Manchester United che sia più o meno convincente e uno di questi è Garnascio che ieri ha fatto due gol ma ne aveva segnato anche un altro e annullato inizialmente per fuorigioco e ci sono stati anche tanti altri fuorigioco che sono, diciamo, un elemento chiave nella lettura di questa partita contro l'Aston Villa di Unai Emery che esce sconfitto ma non esce sicuramente surclassato da questa partita e fino ad un certo punto, siccome è stata molto tirata, è stata molto equilibrata l'esito avrebbe potuto essere davvero qualsiasi. Anche la vittoria di Aston Villa che è passata in vantaggio 2-0 nel primo tempo e ha chiuso il primo tempo 2-0 con poi appunto Garnascio che è riuscito a segnare tra l'altro su una bellissima, su una bella azione che ricorda proprio quella del gol di Garnascio annullato con il passaggio di Rashford. Rashford sempre fondamentale anche quando non gioca benissimo però resta fondamentale dal punto di vista tattico perché questo è un Manchester United che mette davanti la punta ma la punta non è mai stabilmente il vertice avanzato c'è Bruno Fernandes che si alza più avanti di Hoylund quando Hoylund si abbassa c'è Rashford appunto che attacca la linea avversaria più spingendosi verso la sinistra e poi appunto c'è Garnascio che va un po' dovunque c'è il supporto degli esterni con una buonissima partita di Diogo Dalò per esempio e con anche gli esperti come può essere Eriksen, come può essere Evans che sono molto bravi nell'aggredire in avanti, nell'intercetto, in un minimo di aggressività anche se dobbiamo parlare di Manchester United in questa partita contro l'Aston Villa che è stato prevalentemente nella propria metà campo e quindi ci sono stati tanti aspetti tattici appunto il fuorigioco dicevo perché ho Manchester United che proprio nel gol del 2-1 va in maniera formidabile nell'andare a fare una ripartenza un contropiede davvero formidabile, molto preciso come anche il gol annullato a Garnascio era molto simile e quindi riesce a sviluppare gioco in maniera molto rapida contraattaccando anche in maniera efficace ma tante volte che prova a fare la stessa cosa finisce in fuorigioco, cioè davvero 7 offside a fine primo tempo anche se il settimo non è stato monteggiato perché proprio allo scadere del primo tempo e quindi lì l'arbitro ha fischiato direttamente la fine della frazione l'ottavo appunto offside, settimo, ottavo è stato il gol di Garnascio nel secondo tempo annullato e quindi questo ci dà la dimensione di che cosa? della tattica che si è sviluppata in campo, soprattutto quella della Stone Villa la Stone Villa resta una squadra estremamente organizzata parliamo anche un po' di questo, vado un po' a braccio insomma senza un filo conduttore preciso perché la partita dà tantissimi spunti ed è impossibile stabilire delle priorità intanto credo che sia stato, e spero per voi, spero per tutti, un bel Boxing Day chi l'ha seguito, chi l'ha guardato vi ho anche già parlato sul mio secondo canale di Burnley Liverpool quindi recuperate il video, secondo canale Absim Out primo link in descrizione con video brevi sul calcio parliamo anche un po' di mercato che si inizia ad accendere ma in particolare vi ho parlato del Liverpool, di Klopp, della classifica della Premier League e quindi in questo Boxing Day questa partita è stata sicuramente la più avvincente che ha visto, ripeto, una Stone Villa ancora una volta sempre organizzatissimo capace di mandare sistematicamente in fuorigioco il Manchester United e questo non può essere frutto del caso significa 3 volte, 2-3 volte, 4 al massimo possono essere fuorigiochi casuali, fortuiti o magari causati da un errore di posizionamento degli avversari di chi va in fuorigioco ma quando ti capitano 8-10 volte significa che la difesa, ma tutta la squadra della Stone Villa è perfettamente organizzata per creare realmente quella situazione contando anche la grandissima, ottima organizzazione della Stone Villa non è andare a segnare, perché i due gol possono sembrare potrebbero sembrare anche lì frutto del caso perché soprattutto sul secondo c'è stata una sponda sul primo addirittura ci sarebbe la complicità di Onana in realtà che non interviene, non sa esattamente cosa fare ma è chiaro che lì ci sia uno schema sul primo perché c'era quel giocatore della Stone Villa alle spalle di Onana a disturbarlo mentalmente e quello fa parte chiaramente di uno schema chiaramente di una strategia poi il pallone tagliato perfettamente per impedire al portiere di uscire consentire eventualmente un autogol o al più appunto una deviazione di un giocatore della Stone Villa non succede nulla di tutto questo il pallone viene sfiorato il portiere viene comunque messo fuori dai giochi da una ipotetica deviazione e va in porta e c'è il gol poteva fare meglio Onana ma c'è una strategia in quella situazione così come c'è una strategia sul corner perché vai a fare il corner lungo sul secondo palo sponda la palla neanche tocca terra e subito va dentro viene ribattuta subito a rete con impossibilità praticamente per la difesa e il portiere di intervenire certo anche lì avrebbero potuto fare meglio ma c'è una strategia c'è uno schema quindi grande grandissima organizzazione tattica da parte della Stone Villa sia in attacco che in difesa poi però cosa manca alla Stone Villa manca la conclusione manca il tiro e gli ultimi 20 minuti tra l'altro sono stati abbastanza catenacciari da parte dei Red Devils perché Tenang ha fatto entrare anche un difensore e due centrocampisti al posto di due attaccanti e un centrocampista insomma ha svoltato parecchio la squadra in assetto difensivo ma continuando a fare forse in maniera più ribassata più sporca più rinunciataria meno giochista diciamo così meno propositiva quello che comunque sarà visto per gran parte della partita e cioè uno United attendista nel primo tempo sicuramente più in avanti più capace di fare una certa riaggressione più capace anche di impedire alla Stone Villa di uscire dalla metà campo ma comunque tendenzialmente uno United attendista che chiude bene gli spazi che è sempre molto attivo sempre molto sveglio nel muoversi con tutti gli effettivi per cercare di recuperare il pallone e poi sviluppare con delle transizioni molto veloci come appunto già accennavo questo ha messo molto in difficoltà la Stone Villa di Unai Emery che stiamo imparando a conoscere come una squadra o sto imparando forse la conoscete meglio di me una squadra camaleontica come tutte le squadre di Unai Emery o meglio capace di fare tante cose tanti tipi di partite diverse e quindi dicevo una Stone Villa che esce sconfitto ma non esce battuto ma non in maniera preponderante non in maniera clamorosa perché clamoroso può essere ed è la dinamica del punteggio da 0-2 a 3-2 ma il gioco della Stone Villa c'è stato è una Stone Villa che ha avuto difficoltà ripeto soprattutto nell'ultima mezz'ora a costruire vere azioni da gol a mettere davvero in difficoltà di nuovo Onana e la difesa dello United e quindi ad attaccare a tirare da dire che anche i gol che ha subito il gol di Hoylund per esempio è un gol anche lì forse di disattenzione difensiva quindi a un certo punto c'è stato un po' un calo della squadra di Unai Emery perché questi tiri che avvengono da dentro l'area di rigore sicuramente si può fare si può fare meglio e anche il secondo gol di Garnaccio in effetti viene da una situazione il gol di Hoylund viene anche da una anche lì da una sponda in area da un rimpallo da un flipper però un pochino più fortunoso o sfortunato a seconda del punto di vista rispetto al gol del 2-0 della Stone Villa il secondo gol di Garnaccio invece però abbiamo un cutback a Rimorchio dove sicuramente la difesa poteva fare meglio quindi critiche difetti errori sicuramente da parte di Unai Emery in questa partita con una Stone Villa quindi non brillante ma sicuramente un buonissimo Stone Villa che perdendo tra l'altro va in effetti a migliorare le possibilità soprattutto soprattutto del Manchester soprattutto del Manchester City che ha due partite da recuperare avendo e gioca mi sembra oggi avendo giocato e vinto il Mondiale per Club se ne è parlato pochissimo in Italia se ne è parlato pochissimo e quindi con potenziali altri 6 punti può arrivare a 40 raggiungendo attualmente l'Arsenal che però deve ancora giocare ma comunque avvicinandosi anche al Liverpool ma soprattutto proiettandosi al terzo posto appunto questa sconfitta della Stone Villa quindi il Manchester United paradossalmente fa il gioco del Manchester City perché questa sconfitta consentirebbe in proiezione al City di tornare al terzo posto di riscavalcare proprio di un punto la Stone Villa dei miracoli che sta facendo cose se non ricordo male adesso comunque siamo più o meno lì come classifica comunque il City potrebbe rientrare più prepotentemente in corsa anche per il titolo dopo qualche risultato negativo qualche non vittoria che comunque è stata sempre accompagnata da ottime prestazioni sebbene a mio avviso il City non sia o non sia più attualmente la squadra più bella d'Europa e forse neanche la più bella in Inghilterra ma comunque la più bella in Europa difficile perché secondo me è il Bayer Leverkusen l'ho detto ne ho parlato e ne parleremo ancora ma tornando un attimo alla partita ecco un Tenag che ripeto chiude un po' i ranghi alla fine mettendo giocatori più difensivi ma comunque trova il primo gol di Hoilund in Premier criticatissimo Hoilund o comunque ci si aspettava di più visto quanto è stato pagato e ha dato un ottimo contributo in Champions League ma non altrettanto finora in Premier League il primo gol un'esultanza infatti rabbiosa un'esultanza di sfogo c'è da dire comunque che tra le varie occasioni i fuorigiochi e quindi anche la capacità di andare a fare delle buone transizioni delle buone ripartenze veloci il Manchester United ha meritato comunque alla fine secondo me ha meritato di vincere una partita che ha dato sicuramente tante emozioni una partita intensa forse con un po' di tatticismo come dicevo uno United a volte attendista non ha giocato tanti palloni non ha cercato di avere il predominio del gioco però ha cercato di fare la sua parte per sporcare il gioco della Stonevilla sapendo della capacità della Stonevilla di giocare tanto di essere puri aggressivo e di essere veramente molto pericoloso quindi complessivamente una buona un buon giudizio anche nei confronti di Tenag per come ha preparato la partita resta però ancora tanto a mio avviso il lavoro da fare per lo United per alzare il livello per alzare la qualità perché in alcuni casi si vedono anche delle giocate poco complesse piuttosto banali anche prevedibili poi in alcuni momenti ecco che ti viene fuori lo United della ripartenza efficace del gioco veloce e della grande tecnica perché poi stiamo parlando di giocatori di altissimo livello un po' tutti quanti comprese le scoperte come può essere Garnascio però prevalentemente di giocatori di altissimo livello tra cui appunto Rashford Bruno Fernandes e non solo per cui ci si aspetta sempre grande calcio ma non sempre lo United lo sta offrendo anzi quindi forse un'inversione di tendenza per il Red Devils con in parte la nuova proprietà con forse nuovi progetti il rischio in realtà anche maggiore per Tenag di essere mandato via perché quando c'è un avvicendamento nei vertici della società di calcio sicuramente il primo a fare delle spese può essere proprio l'allenatore o la direzione sportiva però questa vittoria sicuramente allontana un attimo la crisi e può dare vigore e autostima per tornare a fare un certo tipo di calcio in una stagione comunque già caratterizzata da tanti eventi negativi tanta fatica tanta sofferenza e tanta insoddisfazione per i tifosi della sponda rossa di Manchester che ringraziano che anzi porgono questo assist invece alla sponda azzurra alla sponda blu con la possibilità appunto come dicevo di ritornare prepotentemente nella lotta per il titolo anche per Guardiola con i Manchester City vi ringrazio per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti parliamo anche di Premier League sia su questo canale sia sul secondo canale Apsimaut sia sul mio server Discord link in descrizione con tante chat appunto per parlare di calcio se il video vi è piaciuto mettete like condividetelo iscrivetevi attivate le notifiche e abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out a partire da 99 centesimi a partire da 99 centesimi a partire da 99 centesimi a partire da 99 centesimi